Tutto pronto. Partite le cavalle del Baggio 2014. Dall'esterno è Orange Sun che tende a portarsi in avanti su so many shots e si sensazione a largo. Poi ancora Musa d'Oriente e Piccola Mia che si porta sotto al largo in coda Natizaia che ha colto un break non brillantissimo. Orange Sun che in giubba scacchi gialli e blu ottiene quello che voleva al comando delle operazioni su Piccola Mia che in giubba rosa gradualmente è pervenuta a seconda. Al terzo all'interno in viaggio invece so many shots con la giubba bianca rosso verde a precedere si sensazione in giubba tutta verde. Seguita da Musa d'Oriente in arancio a chiudere il drappello rimane sempre Natizaia. Queste le posizioni con Orange Sun che procede senza nessun tipo di pensiero impostandola a piacimento. Piccola Mia che viaggia sempre a largo rispetto a so many shots e poi si sensazione Musa d'Oriente Natizaia a contatto. Così le sei quando stanno già percorrendo la metà della piegata conclusiva. Sempre Orange Sun nelle vesti di battistrada su Piccola Mia. Poi ancora so many shots su Xì sensazione Musa d'Oriente in terza corsia sempre a chiudere Natizaia. Siete così retta d'arrivo quella di pista grande gli 800 metri della verità con Orange Sun sempre in avanti. A largo Piccola Mia all'interno so many shots poi Xì sensazione Musa d'Oriente Natizaia. Prova ad allungare in progressione lunga Orange Sun su Piccola Mia che si prepara minacciosissima. Poi ancora so many shots Xì sensazione Natizaia e Musa d'Oriente. Piccola Mia a largo di Orange Sun e so many shots le tre in aperta bagarre davanti a Natizaia che prova a tornare. Xì che non guadagna più dietro Musa d'Oriente e so many shots che allunga nel tratto finale. Su Piccola Mia Orange Sun e a largo Natizaia che sta finendo forte. So many shots all'ultimo farlo in chiara evidenza rispetto alla compagna di colore Natizaia che prova a andare a prenderla. So many shots da sola su Natizaia. So many shots che largheggia e vince la grandissima Albaggio al secondo Natizaia. Poi Orange Sun e Piccola Mia. Xì sensazione e Musa d'Oriente. E sono tre su tre per So many shots che può andare dritta verso il suo target. Christian De Muro per la scuderia di Oscuri ai colori. Stefano Votti in questo Unplanned Tutti in Casa al treno. Salia che prova a tornare. Xì che non guadagna più dietro a Musa d'Oriente. So many shots che allunga nel tratto finale. Su Piccola Mia Orange Sun e a largo Natizaia che sta finendo forte. So many shots all'ultimo farlo in chiara evidenza rispetto alla compagna.